benvenuto a tutti sono fabrizio bellavista sono responsabile dipartimento digital transformation dell'associazione aism un'associazione che mette le mani nella storia della comunicazione del marketing italiano ricordiamo che è nata nei primissimi anni degli anni 50 a mano del mitico tagliacarne un uomo veramente di orizzonti vastissimi era un grande studioso ha iniziato praticamente le ricerche di mercato sul suolo italiano dando un taglio come dire più comprensibile per le aziende e quindi ha incominciato veramente a far colloquiare le aziende con il mercato con i suoi dati tra l'altro e lo stesso tagliacarne una caratteristica molto particolare che noi apprezziamo molto ci aveva proprio un impianto punitivo tecnomanista perché tra l'altro lui ha tradotto il poetà tagore indiano che vinse il nove negli anni venti e quindi assommava questa sua capacità nelle ricerche mercato a una grande afflatto umanistico e questa volta siamo invece qui a parlare di un altro in un altro dei nostri appuntamenti vi ricordiamo che dall'inizio dell'anno e andiamo verso i 24 appuntamenti e quindi siamo contenti perché siamo diventati dalla partire soprattutto dal momento più drammatico c'è quando tutto era chiuso perché io stesso insieme a massimo giordani che presidente abbiamo fatto un webinar proprio il marzo del 2020 non abbiamo più smesso perché è diventato un appuntamento talmente importante e quando nessuno poteva parlare noi ci siamo permessi ci siamo presi la prega e umilmente ci siamo messi al servizio della della comunicazione aggiornamento riguardo la comunicazione del mare di che cosa parliamo oggi innanzitutto i nostri ospiti sono tiziano corni che vedete già e francesco compagnoni che cosa di che cosa ci parleranno questi due giovanissimi protagonisti della scena comunicazione marketing ci parleranno della gamification anche gamification e del gaming voi sapete che il gaming è un mercato che è diventato tre volte tanto quello del cinema quindi è un mercato che forse noi in italia ancora non abbiamo la percezione di quanto è diventato importante e trasversale a tantissime situazioni metà verso compreso con francesco e tiziano andiamo ad analizzare bene che cosa ci può dare all'interno di una strategia ovviamente marketing mi confermi tiziano cioè non fare degli spot fare degli interventi spot o che bello questo giochetto mi sembra che non è questo che facciate voi giusto no assolutamente no assolutamente noi ci occupiamo di quello che integrare il gioco all'interno di quello che sono le strategie aziendali quindi senza mai andare a dividere quello che è il brand da quello che la sua la sua missione ad al proposito magari coinvolgo di più francesco che può aiutarci diciamo di più tal senso sì infatti appunto il nostro obiettivo quanto azienda è fornire degli strumenti che non vadano diciamo a porsi semplicemente in parallelo agli strumenti di marketing che già un'azienda prende e che utilizza ma vogliamo in realtà integrarci in maniera più diciamo uniforme con il resto della degli strumenti appunto a loro disposizione e offrire una soluzione mirata su certi temi che possa andare a offrire gli obiettivi che possono raccogliere gli obiettivi previsti attraverso una strumento innovativo appunto qual è la gamification ecco date buon ora la vostra presentazione così possiamo vedere la vostra visione appunto come anticipato la presentazione di oggi si occuperà di gamification e gaming diciamo in partenza cerchiamo magari di dare una differenza tra i due ambiti e capire di cosa effettivamente stiamo parlando e come questi strumenti possono aiutarci a comprendere la scena moderna o comunque in generale aiutare il marketing che si sta nuovi strumenti di marketing che si stanno sviluppando giusto in questi ultimi anni e prima di tutto è occorre sottolineare quali sono gli effetti principali che possiamo andare a misurare a seguito di strategie di gamification e a volte anche di gaming e in particolare si parla di appunto retention brand awareness e engagement retention nel senso che creare sistemi che utilizzano la gamification può andare appunto a migliorare la quello che quello che è il ritorno dell'utente proprio in seguito ai meccanismi che normalmente i giochi utilizzano come poi vedremo nel resto della presentazione brand awareness è perché gli strumenti che vedremo impiegati anche nei casi studio in seguito sono comunque strumenti ancora ancora ad uso limitato nel senso che non tutte le aziende le stanno introducendo e quindi aiutano a distinguersi e spiccare rispetto alla competizione e a livello di engagement invece penso che sia proprio il punto forte del per quanto riguarda il gioco e i meccanismi di gioco e quindi è proprio il punto in cui più di tutti questi tipi di strategie possono andare dall'interno ora cerchiamo di capire magari in modo migliore cosa significa cos'è il mondo del gaming come è già anticipato appunto è un mercato in assoluta crescita e i videogiochi come vediamo l'italia il nono posto mondiale a livello di fatturato per quanto riguarda i videogiochi ed è un mercato in assoluta crescita si stima che anche nei prossimi anni si arrivi a toccare 33 miliardi in certe in certe previsioni se non di più in altre questo questo è un indice diciamo importante per capire quanto l'interesse del pubblico sia ormai già sviluppato su questo mondo rimane però comunque un preconcetto diciamo che è quello del gamer infatti quando si pensa al gamer normalmente si pensa a un gen z o millennial che sostanzialmente gioca giochi su console o magari addirittura partecipa appunto streaming su twitch e quindi si ha una un'immagine circoscritta di quello che è il gamer la verità è che che ci raccontano i dati e che non è così così ristretto questo questo settore soprattutto grazie a all'arrivo del mobile nel mondo del gaming che ha aperto le porte a un target molto più ampio di età molto più bilanciata all'interno dello spettro e sempre di più e anche over 50 stanno approcciandosi al mondo del videogioco quindi diciamo la prima barriera che viene spesso posta davanti alla game app processi di gamification che è quella del ma il mio target non non apprezzo non utilizza questo tipo di strumenti può essere in realtà superata grazie ai dati che già già oggi ci raccontano una storia diversa sì come potete vedere qua nel grafico appunto c'è la distribuzione uomo donna che è ancora in favore dell'uomo in piccola percentuale ma si sta bilanciando dipende molto ovviamente dal genere poi di giochi e dal settore specifico e poi le fasci di età e le loro percentuali per andare un pochino più in profondità per quanto riguarda il game design abbiamo qui portato l'esempio di degli studi sviluppati da barthol un ricercatore che appunto si è occupato di game research e game design e barthol in particolare ha fatto un'analisi su quello che è il mondo del multiplayer online massive multiplayer online no quindi questi giochi come world of warcraft o simili che da in realtà da tanto tempo sono disponibili online questa analisi però si applica è interessante perché si può applicare anche ad altri processi quindi anche ad altri altri tipi di target in particolare lui crea questa griglia dove mette su un'asse su un'asse l'azione del giocatore sul 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 contesto che può essere che vada azione diretta a interazione con l'oggetto diciamo sull'altro asse invece mette i giocatori e il mondo ovvero posizionandoci su questo grafico possiamo dire quanto l'interesse di un si parla di posizionare il desiderio di un di un giocatore di posizionamento quanto sia interessante per quel giocatore interagire con giocatori o mondo per esempio oppure agire con mondo i giocatori creando quelli che sono quattro macro profili differenti che ovviamente non sono bianco e nero sono in realtà sfumature ovviamente un giocatore può esprimersi in maniera diversa in base al contesto in base al gioco presentato ma che ci danno un'idea di quelli che sono in realtà i desideri all'interno della dei giochi e quelli che sono anche quelli che i punti di contatto con cui possiamo andare a sviluppare processi di gamification il primo il primo modello che vedete qui in alto è quello del killer che ha un nome diciamo un po spaventoso ma in realtà è semplicemente un giocatore che altamente competitivo con altri giocatori altri giocatori parliamo di estremi ovviamente ci sono anche chi è meno competitivo ma comunque preferisce questo tipo di gioco e che trova appunto validazione nelle strategie nella tattica che lui impiega nell'ottenere i posti più alti rispetto agli altri giocatori nello sconfiggere gli altri giocatori e il secondo modello invece è quello della civer la civer è quello che invece punta molto alla collezione al completismo al raggiungere tutti al collezionare appunto tutti i trofei disponibili in un certo gioco c'è una un termine per esempio che è emerso da dal design delle di come della playstation e che è appunto platinare certi giochi no e che significa raccogliere tutti i possibili trofei all'interno di un certo gioco ecco questo chi ha questo desiderio è considerato una civer dal modello di barco l'explorer invece è un giocatore che vuole appunto interagire con il mondo che gli viene presentato l'explorer può essere sia a livello di esplorazione fisica del mondo quindi spostarsi e vedere quello che ha ad offrire ma anche esplorazione narrativa che diciamo si applica più spesso nei casi edification perché i mondi di esplorazione sono più limitati in base al progetto e quindi esplorando la storia la natura e i limiti del gioco in cui viene posizionato questo insomma queste questi parametri descrivono l'explorer l'ultimo profilo che andiamo a analizzare e che in molti casi è anche uno dei più interessanti è quello del socializer che sostanzialmente vede nel gioco uno strumento di comunicazione e in cui può esprimere se stesso relazionandosi con gli altri giocatori qui si parla appunto di community che nascono attorno a certi giochi sia fuori che dentro al gioco quindi sia all'interno di strumenti supportati dal gioco stesso quindi chat all'interno dei giochi eccetera ma anche fuori quindi in community che si formano per esempio su piattaforme come discord o twitch o youtube di community di interessati allo stesso tipo di gioco questo è il socializer e queste le meccaniche di gioco che che vengono insomma sviluppate per questi questi giochi e che vengono impiegate da dal game design da ormai anche decine di anni sono la la prima fonte di ispirazione per quelli che sono i processi di gamification la gamification arriva proprio da questo senza fare una recap storica appunto del termine in realtà la gamification si occupa espressamente di prendere quelle che sono meccaniche da giochi esistenti e trasformarle in strumenti utili per una strategia che può essere di marketing può essere anche di altri tipi di obiettivi andiamo a prendere quindi a prendere qualche esempio di giochi e di meccaniche che diciamo in questo periodo sono diventati rilevanti anche in aspetti esterni al mondo del gaming specifico sicuramente avete magari sentito parlare di fortnite è un gioco battle royale sviluppato da epic games che negli ultimi anni si è dimostrato essere uno dei più importanti sulla scena videoludica mondiale è diventato importante per il suo modello di gioco ma non solo perché il suo gameplay in realtà è molto semplice e anche in realtà se se si vuole anche molto ripetitivo perché comunque è lo stesso tipo di gameplay che viene presentato più volte ma quello che è interessante che vogliamo diciamo mostrare da questo caso sono i sistemi le sovrastrutture che vengono impostate sopra al gioco per esempio le quest che sono sono meccanismi di sostanzialmente sono meccanismi in cui io offro qualcosa all'interno del gioco a un giocatore e in cambio del suo giocare in cambio del suo della sua fedeltà al gioco stesso sono un meccanismo di retention e che viene appunto che può essere impiegato anche all'esterno di giochi stessi no quindi offrire delle milestones a breve medio e lungo periodo quindi può essere giornaliere settimanali e anche senza scadenza di dimensione variabile e che quindi vanno a premiare i giocatori che ritornano a giocare che si dedicano al gioco un altro sistema che ha fatto esplodere diciamo fortnite è il sistema di cosmetici in danno al gioco ovvero per esempio skin dei personaggi quindi diciamo versioni alternative del personaggio che viene utilizzato e altri elementi come possono essere badge banner e così via questo tipo di acquisti cosmetici non solo hanno creato un sistema economico più sostenibile all'interno dei giochi allontanandosi da quello che era loot box e sistemi di diciamo premio casuale più vicini al al mondo delle scommesse ma crea una profondità al gioco e quindi anche a sistemi di gamification che vuole essere esplorata dai giocatori sia dal punto di vista di sia dal punto di vista di chi è achiever da un lato che in realtà dal punto di vista chi è explorer ma in base a come vengono distribuite può essere anche in altri casi ovvero ovvero per esempio un può essere consegnato un cosmetico per le qualità di gioco e quindi andare a premiare un killer in questo caso un altro esempio sempre in questo caso a livello mobile brawl stars è un gioco sviluppato da supercell è una compagnia finlandese e quello che voglio presentare da parte di brawl stars in realtà è un sistema di classifiche che allo stesso modo che credo sia uno dei più lampanti per quanto riguarda gli strumenti gli strumenti che possono essere portati dalle meccaniche di gioco alla gamification nel senso che in particolare nel caso di brawl stars ma come in realtà molti altri giochi presenta dei sistemi di classifica sia competitiva con altri giocatori in cui io comparo i miei risultati con quelli degli altri che è personale in cui semplicemente crea un sistema di progressione su vari livelli quindi con varie diramazioni su cui posso andare a sviluppare il gioco e come e come gli achievement anche questi sono un sistema di engagement e retention un altro esempio di achievement è quello di pokémon go anche pokémon go un gioco che sempre mobile che ha fatto che è esploso negli ultimi anni e che in particolare presenta un interessante sistema di achievement che appunto si sviluppa su missioni semplici che posso realizzare in un giorno ma che con un po a progressione nel gioco posso andare a migliorare quindi aumentare di livello questi achievement la cosa interessante oltre al sistema di achievement di pokémon go e appunto anche l'utilizzo del gps nei giochi mobile quindi della location che ha creato un sistema di realtà aumentata molto interessante che già diverse compagnie hanno comunque riprovato a utilizzare e per 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 appunto coinvolgere anche a livello fisico non solo virtuale i propri utenti e giocatori ora quindi cerchiamo di vedere quali sono magari alcuni casi in cui queste meccaniche sono state portate da dal mondo del gioco al mondo invece della del business e quindi del marketing in general caso un esempio è la run up di nike dove ha utilizzato il processo per esempio vedete la schermata degli achievement di del gioco del gioco del sistema che sostanzialmente propone un modo di gamificare la corsa che spesso è l'output del business di nike e attraverso i risultati che ottengo in questa in questa app io posso andare a convertirli in quelli che sono sconti o comunque rewards all'interno del del mondo di vendita di nike quindi in base a certi achievement che ottengo nell'app posso ottenere alcuni sconti per quello che sono invece le i prodotti stessi nike quindi altre scarpe creando quindi un circolo chiuso di quello che è la vendita ma anche l'utilizzo stesso dei suoi prodotti e creando quindi un rapporto stretto con con i suoi clienti un altro esempio invece quello di twitch da una piattaforma per chi non conoscesse una piattaforma abbastanza famosa di streaming diciamo un competitor di youtube dove appunto questi streamer mostrano magari gameplay dei giochi a cui stanno giocando o o altri tipi di attività ecco una cosa interessante che fa twitch è per coinvolgere al meglio i suoi streamer quindi i suoi content creator quello che fa è creare un sistema gamificato per diventare streamer soprattutto perché sa che la parte più complessa per mantenere gli streamer è quella dell'inizio dove magari lo streamer di per sé non si sente appagato dai numeri bassi che vengono mostrati i primi giorni necessariamente crea quindi un sistema di quest e achievement all'interno della piattaforma che aiutano lo streamer a superare questi momenti difficili e quindi andare verso una partnership più lunga con il servizio quello che possiamo trarre da questi esempi da questo da questo mondo quindi che la gamification può essere sempre essere spesso applicata come sovrastruttura non solo quindi come risposta attraverso lo sviluppo di giochi completamente nuovi brandizzati da parte di un'azienda può essere una struttura sistemi già esistenti o comunque a flussi e scenari già esistenti andando ad inserire quelli che sono gli elementi testati all'interno del mondo del gaming questi sono per esempio sistemi di progressione soft currency ovvero monete diciamo che possono essere spese per ottenere dei dei reward da dall'azienda stessa o sistemi di feedback che sono in particolare forse ne parlare a tiziano un sistema più attraverso il quale non solo ottengo i benefici che sono stati elencati prima ma ottengo anche la qualità di questi dei miei strumenti quindi quanto effettivamente sta funzionando il mio sistema in generale anche sistemi appunto di classifica e achievement possono andare a migliorare i prodotti e quindi la strategia come mostrato nell'esempio precedente ora lascio la parola a tiziano che vi elencherà invece alcuni case studies riguardo all'ambito grazie francesco allora io volevo presentare diciamo un po i casi un po più pratici perché sono un po dopo tanta teoria diciamo andiamo a vedere un po che in cosa vengono usato chi nel tempo ha deciso di implementare una strategia di gamification o di gaming anche perché tante aziende hanno sviluppato i propri videogiochi stessi diciamo che una cosa importante da capire è che non basta mettere degli achievement dei badge delle classifiche a caso questa è una cosa che va detta e ripetuta non è perché possono essere addirittura controproducenti a quello che può essere l'immagine aziendale quindi questo è molto importante soprattutto se volete poi introdurre dei certi sistemi ali dentro le vostre dinamiche di marketing allora in questo caso noi andiamo a vedere un po diversi ambiti il primo diciamo che quello un po più famoso che utilizza il mondo del gaming e del gamification che è molto affine è il mondo luxury quindi possiamo andare a parlare di barbari gucci hermes eccetera 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 trovo un attimo super cortesia francesco noi qua con questo grafico qua preso da clarna andiamo a vedere chiaramente che gen 0 e millenius sono diventati i principali acquirenti del mondo luxury assolutamente ma di gran lunga come potete vedere i baby boomers ormai rappresentano solo più proprio il 18 per cento di baby boomers acquistano dai brand luxury mentre raggiungiamo dei picchi del 63 per cento con i millenius che siamo noi la nostra generazione è nata diciamo tra gli anni 80 e 95 addirittura clarna stima che nel 2025 il 50 per cento dei prove dei loro proventi arriverà dal dagli under 25 persone che sono appena entrate magari nel mondo del lavoro o si appoggiano a ai beni ma diciamo alla liquidità familiare giusto per dare un dato che non ho inserito più nel gen z più del 50 per cento del proprio budget mensile viene speso in abbigliamento quindi è un dato molto forte adesso andiamo a vedere un po cosa cosa ha voluto fare barberry nel 2019 ha lanciato un gioco che si chiama be bounce consiste semplicemente nell impersonare un cerbiato vestito con un piumino griffato in thomas barberry e bisogna aiutarlo a raggiungere la luna saltando su piattaforme sempre più alte raccogliendo i vari loghi di thomas barberry evitando nuvole nevose e tempestose quindi il gioco chiaramente ha come scopo una lunga brand exposure per quanto riguarda il giocatore e la viralità sui social e prodotte a propone questo a questo punto diversi elementi tipici della gamification quali la ricompensa immediata perché quale premio abbiamo una gif personalizzata non potete vedere a destra con il piumino scelto e l'altezza raggiunta che si può condividere chiaramente sui propri canali social abbiamo una parte di competizione perché partecipando a londra in giappone cadere stati uniti è possibile giocare addirittura all'interno degli stessi store di barberry e addirittura sui maxi schermi quindi è un gioco live anche e poi soprattutto anche una questione di status perché al termine del gioco scalando la classifica è stata messa poi in paglio una vera giacca completamente esclusiva e fatta per quella persona con il monogram thomas barberry poi gucci usa anche ha fatto in realtà anche una collaborazione con minecraft facendo addirittura del lancio di tre settimane fa circa addirittura una linea di vestiti dedicata a tal proposito gucci invece ha un'intera sezione del sito dedicata al mondo dei videogiochi loro utilizzano il termine good game che sarebbe gg che qua chiaramente richiama il monogramma del marchio guccio gucci letteralmente good game vuol dire bella partita e chiaramente si vede il saluto che tra gamers al termine del punto del gioco all'interno dell'e-commerce si trovano prodotti specifici per il target oppure di sponsorizzazione di prodotti come collaborazioni per esempio xbox con la gucci ha celebrato i suoi vent'anni e gucci i cent'anni quindi in questo caso i due mondi si sono si sono fusi sempre dentro il sito di gucci è possibile trovare i video gioco videogiochi gucci arcade quindi a videogiochi che richiamano gli anni 70 80 dove i giocatori possono immergersi all'interno del gioco chiaramente completamente brandizzato gucci quindi anche qui aumentando a dismisura la brand exposure inoltre oltre a queste dinamiche che genera stringe partnership con squadre di sport adesso non so se avete sentito ma insomma fortnite è stato l'evento più seguito la finale di fortnite sono stati gli eventi più seguiti al mondo live se non ricordo male francesco dimmi se sbaglio però se non sbaglio avevo questo dato e utilizza il proprio brand all'interno di giochi di successo come i the sims penso che ognuno di voi beh sento parlare diciamo negli anni passati di the sims che era un simulatore di vita nel quale si faceva crescere diciamo ipoteticamente un personaggio un avatar ha rilasciato recentemente in pokémon go precedentemente precedentemente citato da francesco un codice dove il giocatore può andare a riscattare e ottenere quindi un outfit esclusivo per il proprio avatar poi qui possiamo vedere anche tennis clash dove loro hanno deciso di fare una brandizzazione addirittura dei campi da tennis e del vestiario chiaramente tennis clash è un gioco un videogioco completamente online multiplayer nel quale i giocatori si possono affrontare sui sui campi da tennis in seguito per abbandonare un po il mondo luxury se no abbiamo esemplice fino a domani mattina abbiamo il mondo dei trasporti dove in realtà diciamo che è un po universale il sistema di loyalty c'è chi fa sistemi più semplici oppure sistemi leggermente più avanzati come nel caso appunto di conosciamo tutti trenitalia trenitalia ha introdotto un po tardivamente in un certo senso il prodotto il suo concetto di loyalty però diciamo che non aveva grandi problemi di di competitors a livello italiano tant'è che l'ha fatto solo nel 2007 con la carta viaggio non so se vi ricordate e prevedeva effettivamente solo esclusivamente una raccolta punti che si poteva riutilizzare per l'acquisto di biglietti o eventualmente poi in seguito inseriti coupon di partner dopo pochissimi anni però si è resa conto che era totalmente insufficiente anche soprattutto con con italo che è entrato sul mercato non bastava più questa dinamica di reward semplice anche magari ispirata a quello che erano le compagnie aeree e ha creato appunto il sistema di articoli livelli cioè l'attuale carta freccia utilizza nel suo ticketing online questi elementi questo elemento di game design che è di per sé molto comune ma molto efficace perché incoraggia i clienti a prendere parte al sistema di ricompensa la barra di avanzamento dei punti status mostra quanto sei vicino al livello successivo visualizzando i processi il cliente potrà vedere quanto deve usare le frecce per spostarsi anziché un mezzo privato o della concorrenza soprattutto per poter raggiungere lo stato successivo un altro vantaggio è che la barra fornisce una gratificazione immediata quindi noi abbiamo subito un reso conto di come stiamo andando avanti un sistema di feedback in veramente immediato e innesca chiaramente una motivazione naturale per il progresso chiaramente il ragionamento dello status porta con sé diverse benefit qual è l'upgrade della classe gli accessi alla riservata in stazione la cancellazione gratuita e via discorrendo parte del motivo per cui questo sistema di ricompensa è così efficace è dovuta alla dinamica chiamata vincolo la dinamica di vincolo nasce quando si blocca parti del sistema di avanzamento o si rivelano cose solo esclusivamente agli utenti più fedeli quindi io con la classe oro ho l'accesso alla carta alla freccia lounge all'argento no e soprattutto la scienza comportamentale ci spiega che la paura di perdere uno status è motivante tanto quella di nell'ottenerlo quindi le persone spenderanno sempre soldi o impegno diciamo per mantenere lo status perché lo sforzo che ci mettono è esattamente lo stesso perché per ottenerlo mentre se ci spostiamo diciamo nel mondo un po più dell'editoria come appunto vedete spesso investono in sezioni di game all'interno del proprio sito sia per migliorare magari la retention sia per quanto riguarda l'immagine aziendale e io ho portato diciamo tre casi in tal senso il primo è il new york times che diciamo molto famoso perché quest'anno ha fatto diciamo un po il salto che un po per tutti diciamo perché la premessa il new york times è il quotidiano generalista più venduto negli stati uniti parliamo di 125 milioni di visualizzatori unici al mese giusto per dare un'idea di numeri tramite l'acquisto di wardle però voleva incrementare l'user retention quindi il fatto sì che la gente tornasse quotidianamente a visitare il sito quindi non solo più per quanto riguarda i scandali o le notizie diciamo più più corpose quelle potrebbero essere non so l'elezione di un presidente ok insomma vuole far sì che la gente tornasse quotidianamente generasse traffico quindi il 31 gennaio del 2022 ha acquistato wardle e ha ottenuto in seguito un trimestre record sia in termini di visite che nuovi abbonamenti per darvi due nomi insomma a maggio che quindi col primo trimestre attivo di wardle si parlava già di decine di milioni di nuovi visitatori sul sito portati appunto dalla viralità del gioco ogni gioco il gioco è molto semplice perché è basato sul fatto che c'è da indovinare una parola di cinque lettere cinque caratteri è scelta casualmente all'interno del database del gioco e il giocatore deve indovinarlo avendo a disposizione come vedete sei tentativi che chiaramente tutte le parole devono essere di senso compiuto all'interno del dizionario quindi non si può ammettere una parola totalmente casuale non so raver che non vuol dire nulla bisogna mettere river parlando di numeri quello soprattutto che è stato normalmente vantaggioso il numero di tweet che ne ha parlato parliamo in un solo giorno hanno superato i 500 mila tweet che parlavano di wardle chiaramente non non ci sono mai state social interaction in tal senso parlando di videogiochi assolutamente mai successo e a tutt'oggi a distanza ormai di mesi si parla comunque di decine di migliaia di tweet al giorno potete controllare in autonomia diciamo adesso il grafico non è non è stato non l'abbiamo inserito nelle slide però si vede chiaramente sì una discesa ma comunque parliamo di un'interazione social molto forte sulla linea di quello che ha fatto il new york times gazzetta dello sport si è attivata in italia chiedendo a noi diciamo l'adattamento del nostro gioco line time disponibile per cellulare sul loro sito e abbiamo sviluppato gazzacquiz nonostante sia uno quotidiano sportivo chiaramente non generalista e solo in lingua italiana sta godendo diciamo di un ottimo successo perché parliamo di oltre 400 mila giocatori in soli 4 mesi anche qui come wardle vige una scarsità di contenuti perché abbiamo solo una domanda al giorno che obbliga l'utente a tornare sul sito tutti i giorni se non si torna sul sito tutti i giorni non si scalerà mai la classifica al quale però bisogna per forza cedere i propri dati a gazzetta per poter partecipare diciamo anche qui abbiamo una parte di statistica personale di risultato condivisibile sui social per invitare chiaramente il nostro network di persone a confrontarci per poter vincere e vedere i propri risultati e condividere diciamo i propri successi anche financial times invece a differenza di new york times e gazzetta che parliamo di retention ha un concetto comunque diverso perché qua si parla effettivamente di immagine aziendale il gioco del climate change è stato rilasciato tra aprile e maggio ha come scopo la sensibilizzazione sul cambiamento climatico è un gioco di tipo gestionale quindi non l'interattività è completamente diversa però qua si va a impersonare uno dei quattro personaggi proposti che sono una giovane attivista un imprenditore in ambito tecnologico un politico o un imprenditore che può influenzare i leader mondiali quindi attraverso le scelte che si fanno bisogna ottenere emissioni zero entro 2050 quindi le scelte che sono da fare per esempio potrebbero essere quelle di fermare le centrali a carbone incentivare la ricerca sull'idrogeno tenere dei comizi per sensibilizzare le persone e quindi a seconda delle scelte che facciamo noi come potete vedere in alto a sinistra c'è la barra di effort noi andiamo a consumare questa barra di sforzo e a seconda del risultato che otteniamo con lo sforzo veniamo pregnati con altri punti da poter poi rispondere e abbassare ulteriormente la CO2 vi invito a giocare è molto carino lo potete trovare tranquillamente cercando di climate change financial times dopodiché diciamo delle dinamiche un po' più comuni possono essere quelle dei social media loro stessi utilizzano elementi di game design per massimizzare l'engagement degli utenti tenerli sempre attaccati allo schermo oltre gli algoritmi classici che possono essere quelli di Instagram e TikTok abbiamo anche il caso di Gas Instagram lo usa banalmente quando sono nati i reels con i sondaggi le barre di trascinamento con la fiamma prese per vedere il gradimento per andare interattivo appunto la stories Gas invece lavora in modo diverso cos'è Gas? Gas è una piattaforma social completamente nuova dove è possibile complementarsi con qualcuno in modo completamente anonimo per gasare qualcuno semplicemente da qui il nome semplicemente quindi si va a cercare di dare un riconoscimento alla persona attualmente è disponibile solo in 12 stati americani a breve sarà presente chiaramente in tutti gli Stati Uniti e nelle classifiche ha già superato sia TikTok che Be Real giusto per dare un po' un ordine di grandezza dopo il download si va a selezionare la propria scuola semplicemente si sincronizzano i contatti con l'applicazione e vengono generati in modo direttamente dall'applicazione dei sondaggi in base proprio alla cerchia di persone che si conoscono in modo completamente anonimo e chiaramente i sondaggi sono solo esclusivamente su messaggi positivi quindi chi più ti piace chi più è bravo però l'utente che riceve questi contenuti cioè questi complimenti non saprà mai chi è perché è completamente anonima se si vince un sondaggio si vince una fiamma che viene inviata alla propria email a differenza di app simili che sono state sviluppate negli Stati Uniti che hanno avuto problemi con bullismo qua i sondaggi invece sono completamente predefiniti e non esistono messaggi diretti quindi non è possibile interfacciare la persona che viene diciamo scelta dal quiz con chi invece sta selezionando il nome un utilizzo diciamo invece offline per prendere un po' un amico universo è stato utilizzato in diversi casi tutti penso immaginate conoscete il Lego Series Game che viene utilizzato all'interno delle aziende anche per percorsi manageriali per incentivare alcuni ragionamenti invece abbiamo Volkswagen che nel 2019 ha fatto diciamo una una campagna molto interessante che si chiama The Fan Theory si ipotizzava semplicemente che la gamification potesse migliorare il comportamento dei cittadini rendendoli più virtuosi adesso in immagine vedete quella che è Battle Bank Arcade si vuole semplicemente incentivare la raccolta del vetro quindi normale box di raccolta viene modificato è stato applicato un sistema elettronico che è un termine predefinito illumina una delle lampadine posta sopra i fori di introduzione delle bottiglie e se la persona introduce la bottiglia nel momento in cui la lampadina è accesa otterrà un punto chiaramente una successione di risultati positivi va a generare delle combo quindi un incremento percentuale di punteggio quindi magari ne faccio 5 di fila valgono 1 la sesta vale 1,2 e via discorrendo quindi chiaramente viene inserito un gioco all'interno dello smaltimento oltre a far smaltire le bottiglie a modo ecologico quindi chiaramente il pubblico viene maggiormente coinvolto per parlare un po' di risultati questo cassonetto è stato utilizzato più del doppio rispetto a quelli vicini quindi le persone l'hanno usato diciamo in modo senza che chiaramente gli altri abbiano ricevuto una riduzione d'uso mentre invece se andiamo a vedere un caso un po' più che un po' tutti coloro che vivono a Milano hanno avuto modo di vedere Piano Stairs dove per incentivare appunto l'uso delle scale per combattere anche l'obesità a tutti gli effetti è stata fatta questa installazione su questo caso è la stazione di Odenplana a Stoccolma è stata la prima a utilizzarlo alcune pedane vengono appunto colorate di bianco e nero all'uscita della metropolitana ogni volta che il piede veniva appoggiato su un gradino veniva emessa una nota del pianoforte quindi chiaramente uscendo dalla metropolitana si generava una scala di note quindi una scala crescente di musicale parlando di effettivamente di risultati d'uso dal primo mese all'introduzione del sistema musicale la scala mobile ha ricevuto ha subito una riduzione di utilizzo del 66% quindi effettivamente anche qui è stato incentivato un comportamento considerato di positivo è stato molto efficace nella sua semplicità tale progetto appunto è stato poi riproposto sia ad Oakland a Melbourne a Istanbul e a Milano alla fermata Duomo dell'M1 e con questo vi ringrazio se avete delle domande potete scriverle direttamente in chat e vi rispondiamo volentieri Fabrizio sei mutato perfetto domande e risposte e chat nel frattempo che le persone riflettono vi faccio io un paio di domande su argomenti che avete toccato che mi sembravano molto interessanti la prima era la socializzazione all'interno della gamification porta poi a costruire delle community anche al di fuori dell'evento stesso che avete qualche case da raccontare riguardo queste community che si formano lateralmente per capire bene il potere che ha il gaming e la gamification detto le aziende sì in realtà un caso che non abbiamo portato ma che è sempre interessante da citare a livello di gamification è un caso adesso mi sfugge il nome però è un caso di McDonald's che ha che ha realizzato ormai diversi anni fa se non sbaglio a Pechino dove sostanzialmente era la promozione di un nuovo sunday il loro gelato che venevano a McDonald's e c'era questo progetto per cui sostanzialmente se era si chiamava se non sbaglio save the sunday o qualcosa del genere e gli utenti erano invitati a scaricare l'app di McDonald's e sostanzialmente far ruotare una ventola sostanzialmente una ventola che potesse raffrescare il sunday il gelato e non farlo sciogliere che era quello l'obiettivo e questa cosa è diventata virale in fretta soprattutto perché da soli non si poteva mai evitare che si sciogliesse questo sunday e se non si scioglieva entro un certo tempo si vinceva un bonus per comprare uno di questi sunday al McDonald's e quindi è nata questa community di persone attorno al salvare questo gelato e che si sono sostanzialmente riuniti per evitare che il gelato si sciogliesse quindi era non solo diciamo sfruttava elementi di gioco per per vendere per la sua campagna promozionale ma inoltre stillava un desiderio di creare di trovare altre persone che potessero aiutarti e quindi creare una community all'intorno di questo quindi ha vinto il concetto tengo in vita un gelato piuttosto che il gioco in se stesso questo era esatto esatto sostanzialmente quello non era tanto il gioco non era tanto ruotare la la ventola quanto piuttosto la la necessità di una comunità per salvare questo gelato quindi l'obiettivo veniva visto in una chiave comunitaria piuttosto che in una chiave individuale interessante molto interessante e riguardo a Fortnite ho visto che avete fatto l'esempio possiamo accennare un attimo che Fortnite appunto è stato è diventato anche un ha ospitato anche dei concerti famosissimo quello di Trevis con 14 milioni di user anche se non erano contemporanei mi sembra che non divise per rooms perché non può tenere 14 milioni contemporaneamente avete qualche elemento riguardo a Fortnite che si apre oltre ai giochi di cui avete parlato bene anche ad altre cose che significato ha questa apertura? Allora qua secondo me questo è diciamo un indice della pervasività del gaming nel mondo di oggi nel senso che spesso appunto prima si riteneva il mondo del gaming come limitato a una community ristretta di appassionati o comunque fuori da quello che è la cultura mainstream del mondo diciamo mentre il cinema magari veniva più integrato a quello che era il mondo appunto della cultura dell'attualità il gaming era visto come un mondo esterno come una nicchia a sé stante mentre diciamo questo questo concerto in particolare ma anche altri eventi di questo tipo che sono stati tenuti su Fortnite ma anche su altre piattaforme sono una prova in primo luogo appunto della pervasività di questi giochi della assoluta grandezza di utenti di questi sistemi perché di fatto vanno in competizione con quelli che sono a livello di numero di utenti con quelli che potrebbero essere arene fisiche dove ospitare un concerto ovviamente hanno anche superato quei numeri grazie proprio alla possibilità di essere online inoltre diciamo deviando leggermente dal tema del gaming ma hanno dimostrato anche la potenzialità del gaming quindi del gioco diventare un metaverso ovvero un ambiente in cui si possa ospitare qualunque cosa diciamo Fortnite non era più limitato al gioco stesso ma si è dimostrato in grado di diventare qualcos'altro utilizzando le infrastrutture che aveva messo giù nel tempo sostanziale una piccola domanda ancora su Fortnite e poi passiamo a due domande che i presenti ci hanno mandato ecco quindi la meccanica di vedere Travis piuttosto che altri eventi mi sembra anche altri grandi star pop e di altro genere musicale sono passati da Fortnite ma quindi rimaneva il gioco all'interno della visione di Travis durante il concerto c'era un concerto di gioco era puramente la fruizione del concerto diciamo che io personalmente non ho assistito all'evento live però mi sono informato visto che era stato un caso molto rilevante quello che so è che comunque il concerto è stato progettato per il gioco qua si parla di una visione diciamo multimediale nuova da parte di artisti musicali come in questo caso che prendono che fanno del gioco un medium di espressione per cui sì non è chiaramente semplice diciamo uno poteva anche realizzare la stessa la stessa cosa semplicemente mettendo in sfondo o in sottofondo la musica ma appunto invece il concerto stesso faceva si era andato a integrare con il mondo di gioco diciamo non si poteva replicare la stessa esperienza in un altro spazio diciamo era progettata per quello spazio chiaro allora passiamo alle domande dei presenti la prima è Gianluca che ci dice ci sono anche possibili effetti negativi del gaming e della conseguente gamification all'interno dell'azienda e quali potrebbero essere? allora sì secondo me per parlare di questo tema bisogna affrontare quello che è un po' più spesso è un tema controverso del gaming che è l'associazione al gioco d'azzardo diciamo molto spesso modelli di business all'interno del gaming devono in qualche modo ovviamente recuperare soldi dai suoi utenti e ci siamo sempre più spostati nel tempo da quelli che erano giochi che io acquistavo e che io giocavo e siamo andati verso giochi free to play o comunque a un basso costo di entrata con la presenza di microtransazioni eccetera ecco anche i sistemi di gamification soprattutto per progetti più lunghi diciamo spesso non si parla di una semplice campagna di marketing diciamo a durata limitata ma quando si parla di un sistema per esempio la MicroMap o altri quando andiamo a integrare sistemi di chance all'interno del gioco quando andiamo a sfruttare certi meccanismi intrinsechi dell'essere umano della nostra psicologia che diciamo ci fa in modo quasi ossessivo alimentare questi giochi e quindi andare a giocare in modo quasi compulsivo proprio perché io sfrutto meccaniche di azzardo e meccaniche che appunto le scommesse hanno già sfruttato da tempo ecco secondo me quando si vanno a implementare questi sistemi per dirne uno molto famoso sono le lootbox queste scatole misteriose che si aprono in certi giochi e che ci possono dare un numero casuale di rewards quando si vanno a implementare sistemi simili si possono avere dei rischi per quello che è insomma la qualità del tipo di rapporto che vado a restaurare anche a livello di immagine stessa dell'azienda questo ci possono essere probabilmente altri rischi che in questo momento non vengono in mente ma questo secondo me è uno dei esempi più concreti per ritorno al fare attenzione quando si vanno quando va iniziato attenzione alle dinamiche che si vogliono inserire perché possono essere contraproducenti quindi ecco Tiziano e Francesco avete toccato un argomento che è molto sentito dall'associazione AIS ma abbiamo fatto due convegni lo sapete negli ultimi due mesi riguardo l'etica digitale che ovviamente investe tutti i campi e anche il vostro a questo ci permette a ricordare che la transizione digitale la digital transformation ha veramente tante voci una di queste voci è il che difiere la gamification e però per tutte le voci che compongono una strategia sono tantissime che sappiamo e saranno sempre di più è necessario riportare il senso dell'umano all'interno di queste cose cioè non farsi prendere la mano dalla tecnologia per la tecnologia ma usare sempre la tecnologia in funzione di qualche cosa è ovvio che anche usando la tecnologia in funzione di qualche cosa si può fare degli errori e si può commettere degli sgarbi dal punto di vista etico permettetemi le virgolette ma è certamente più giustificabile perché è all'interno di un ragionamento umano in cui magari si è sbagliato qualche cosa e non è tanto usare tutta la tecnologia che adesso abbiamo a disposizione che è veramente infinita per la teologia cioè in modo che la tecnologia diventi la cultura e non la cultura che si arricchisce con la tecnologia questo è un po' il pericolo che stiamo vivendo in questo momento la tecnologia sta diventando la cultura imperante ma non è non è cultura la tecnologia e con questo ci tengo a sottolinearlo perché è una nostra battaglia l'abbiamo iniziata nel 18 con una serie di tavoli tematici che ha coinvolto circa un centinaio di personaggi del mondo digitale dalla blockchain fino a qualsiasi qualsiasi tema e quindi abbiamo portato a casa veramente tante cose come associazioni come singoli che ci continua ad alimentare la nostra ricerca anche fino al metodo un'altra domanda interessante questa volta di Giorgio Gandellini più focalizzata invece proprio sul business e dice esattamente ciao avete esperienza di applicazione dei videogiochi alle business simulation interattive fra squadre di partecipanti in competizione? ok è un caso bastante specifico non ho un esempio pronto a riguardo però spesso in realtà meccaniche di gamification vengono usate anche all'interno a livello aziendale ma non a livello esterno quindi non a livello di marketing quindi ci sono sicuramente casi e in particolare a volte e anche questo in effetti è una criticità in certi casi cioè non sempre viene fatto in modo etico esistono casi di appunto elementi gamification del processo lavorativo stesso e quindi all'interno del business vengono magari divisi per team esattamente oppure a volte nemmeno divisi per team semplicemente con classifiche aziendali eccetera per fare un esempio veramente banale di gamification che esiste dall'alba dei tempi è l'employee of the month l'impiegato del mese quello è già un sistema di achievement rudimentale che veniva applicato a livello business ed esiste anche a livello di team quindi per esempio in base alle performance di un certo team si raggiunge si possono raggiungere certi obiettivi un esempio non estremamente positivo è per esempio quello di Amazon che ha impiegato elementi di gamification nei propri magazzini a livello di logistica e lo ha fatto ma anche per i corrieri e lo ha fatto per ovviamente minimizzare i tempi sprecati e insomma massimizzare invece l'efficienza in certi casi si è arrivati a dei sistemi che erano borderline disumani a livello di richieste personali dell'utente dell'utente dell'impiegato quindi sì io personalmente credo che applicare sistemi di gamification all'interno dell'azienda sia un strumento molto utile perché comunque la motivazione magari spesso è difficile da ritrovare negli impiegati in certi tipi di lavoro però bisogna sempre stare attenti ai rischi insomma di non puntare tutto sui dati sull'efficienza quando in realtà appunto come abbiamo spiegato anche prima la parte umana la componente etica del gioco va sempre tenutamente sì sottolineare anche che proprio il gioco il game è una una forma di gioia e bisogna mantenerla questa forma di gioia se questa forma di gioia porta alla classificazione interna dei buoni dei cattivi certamente non è un game gioioso ma è un game che porta comunque quindi usiamo le parole anche per quello che vogliono dirlo se il gaming è il gaming sia giusto teniamo questo fantastico fantastico come dire afflatto che è un afflatto di gioia non è un afflatto di tristezza o di frustrazione il gaming deve essere usato per dare gioia direi che questo potrebbe essere una soluzione se siete d'accordo sì può essere sfidante ma non deve portare con sé chiaramente un messaggio negativo diciamo che il rischio il rischio principale è collegare meccaniche di gamification a delle punizioni o delle o delle insomma bastone carota ecco se io offro il bastone a livello aziendale può essere un problema no se gli ultimi posti mi creano appunto addirittura licenziamenti o cose di questo tipo ecco in quel momento diventa un clima tossico esatto mentre se mello interno c'è anche il gaming tossico che ha a che fare con le char e quindi con il clima interno vedo che si sono moltiplicate le domande altri due quindi ve le faccio Rachele se all'interno del game il brand mette in paio dei reward tipo buoni scopi il tutto deve passare dalle pratiche burocratiche relative ai concorsi a premi quelle classiche cioè ministero banca d'italia eccetera qua posso intervenire io qua il caso è il classico dipende perché se si parla semplicemente come potrebbe essere un coupon che si manda via mail e sono per esempio all'interno del gioco abbiamo Flixbus ci dà dei codici sconto su achievement della missione giornaliera no nel senso comunque sono sono codici sconto in realtà a pioggia e quindi va bene mentre invece se io devo dare in palio dei buoni Amazon probabilmente sì quindi in questo caso io consiglio assolutamente di interfacciarsi con qualcuno che si occupi di questo mestiere ben preciso perché esatto un esperto perché è facile rischiare di arrivare poi dal di multa ecco non è non è così è abbastanza rapido il sistema bene ottimo l'altra domanda invece che vi faccio por ora è anzi ce n'è ancora due faccio la prima ciao prima si è parlato di eventuali rischi che un'azienda può correre utilizzando sistemi di gamification vorrei sapere qualcosa di più su questo punto grazie mille bellissimo approfondimento mi sembra che ne abbiamo già parlato riguardo i rischi ma in realtà che si può tenere diciamo anche tante volte si può generare sensi di frustrazione perché magari mettiamo in paglio facciamo dei sistemi pensiamo i badge achievement o anche fosse solo una classifica bisogna ben pensarle perché magari è troppo facile e ce l'hanno tutti ed è pressoché inutile è troppo difficile crea frustrazione quindi anche queste dinamiche qua vanno studiate per quello che dicevo non vanno messe a caso e bisogna farci proprio uno studio anche sulla tipologia di persone che frequenta l'azienda un esempio semplice anche banalmente quando si fa un concorso a premi in azienda nel senso io magari ti mando in smart work una settimana il fine questo fine questa settimana a cortina da un pezzo non lo so tante volte i reparti non si capiscono cioè nel senso magari l'operaio non capisce cosa fa quello dell'amministrazione o viceversa quindi le dinamiche in realtà sono molto simili bisogna il gioco è un sistema per rendere tutti più o meno pari quindi questo aiuta aiuta molto soprattutto per quanto riguarda d'altro canto bisogna fare attenzione perché ci va veramente poco a trasformare dal gioco crea generare un problema quindi questa è un po' la cosa se Francesco vuoi giocare qualcosa molto equilibrato la vostra visione e l'ultimo è un saluto grazie di tutto molto interessante buona serata e con questo avendo raggiunto il 19.01 mi sembra che siamo soddisfatti di aver chiuso rispondiamo solo all'ultima rapida che ne vedo potete mappare i loro comportamenti dei giocatori sì è quello qua che si è giusto si può fare chiaramente è sempre una questione di GDPR quindi nel senso si può fare per aggregati senza problemi poi altrimenti si entra nel GDPR in generale permessi eccetera esatto benissimo grazie ragazzi in bocca al lupo scusate l'ultima cosa parliamo del nome della vostra azienda qual è l'etimologia di questo nome? devo dire che l'etimologia è misteriosa fuori quanto dentro nel senso che in realtà l'origine Gary arriva da Garibaldi che sono i proprietari i fondatori dell'azienda iniziale e devo dire che ho fatto divertente ho chiesto anch'io questa stessa domanda e nemmeno il fondatore ha detto ma perché l'avamo scelta la seconda parte in effetti abbiamo trovato una delle radici abbiamo il 50% grazie allora grazie a tutti i partecipanti attualmente vedete che ci sono in chiaro tutte le possibilità per contattare ancora Tiziano e Francesco che saranno felicissimi di rispondervi e quindi vi ricordo che rimarrà comunque fruibile dalla pagina Facebook questa bellissima conversazione che abbiamo fatto e quindi un saluto a tutti e una buona fine giornata grazie ancora grazie ciao 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 a tutti ciao 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 ciao